Abbiamo anche un casco con un sistema di visualizzazione montato, che ha un monocolo che, sostanzialmente, svolge molteplici funzioni. Quindi, se abbiamo un obiettivo designato a terra, possiamo guardarlo proprio attraverso questo monocolo. E possiamo vederlo attraverso il triangolo rosso, purché sia puntato correttamente. Ciao a tutti, sono il capitano Lindsay Johnson e il mio nomignolo è med. Oggi vi mostrerò tutto quello che porto con me quando volo su un Jetta 10. Questo che abbiamo qui, è un casco standard, con visiera nera. Questo casco, lo uso sia che debba effettuare un normale volo interno, sia che debba effettuare un volo strumentale. Niente che richieda necessariamente un impegno eccessivo dal punto di vista tattico. Quindi comunque lo porto assieme a me. In genere lo teniamo coperto per evitare che si graffi. Perché quando si arriva all'aereo il responsabile della squadra lo mette davanti all'head-up display ed è meglio non si graffi. Il casco si presenta con la maschera standard. Ci agganciamo al cosiddetto crew 60, che si trova all'interno del velivolo. Serve a collegare il nostro tubo dell'ossigeno, all'ossigeno che si trova nel velivolo. È proprio da qui, che poi l'ossigeno fluisce dentro la mia maschera. A questo punto, quindi, dobbiamo assicurarci che tutto quanto sia a posto e funzionante, che non sia sporco, che non ci sia assolutamente nulla che possa compromettere la nostra capacità di parlare da qui. Dopodiché, basta dare un'ultima occhiata generale, per assicurarsi che tutte le normali connessioni audio siano collegate. Per quanto mi riguarda, io volo con quelli che chiamiamo access. Sono dei tappi per le orecchie personalizzati da inserire nel casco. Sono stati sagomati all'interno delle mie orecchie, quindi, se li indosso così, mi trovo molto meglio. Ora mi sentite parlare a voce alta e lassù funziona molto bene per le nostre orecchie. Riusciamo senz'altro a sentire molto meglio le comunicazioni. Anche se si vola con i normali tappi per le orecchie, si è comunque collegati. Personalmente, però, mi collego prima di avviare i motori, e tutto il resto. Mi collego, li indosso, mi metto il casco, e riesco a sentire tutto meglio attraverso questi tappi, rispetto a quelli in gomma piuma. Per questo motivo, di solito mi assicuro che sia integro e funzionante e che sia scollegato. Questo elemento è tipico. Un casco con la cosiddetta fascia sulla nuca. Ciò che aiuta a mantenere il casco aderente alla parte posteriore del collo. Lo posizioniamo proprio sotto la nuca e lo manteniamo aderente alla testa. In questo modo, se dovessimo essere costretti a lanciarci, il casco rimarrà ben saldo sulla testa. E infine, ci sono anche delle ottime schiume auricolari che coprono le orecchie. Una sorta di ulteriore protezione per i forti rumori del motore all'interno della cabina di pilotaggio. Vediamo altre caratteristiche del casco. Abbiamo una luce all'altezza delle labbra. Osservate attentamente. Si trova proprio all'interno. Ora, sicuramente sembrerà un po' strano quando lo farò. Ma se premete questa parte vi farà accendere o spegnere la luce. Quindi basta tirare fuori la lingua per accenderla e spegnerla di nuovo. È sicuramente una funzione utilissima per noi questa, se vogliamo di notte. Se scrivo sul mio cosciale da volo e devo poter leggere, non devo accendere luci che oltretutto disturbano la mia visione notturna. Mi basta questa piccola luce bianca che posso accendere rapidamente. Vedo quello che sto scrivendo o quello che ho scritto in precedenza, dopodiché la spengo. Di solito, se non voliamo di notte, la teniamo spenta per risparmiare batteria. In genere, diciamo che se sono in volo di notte e la mia luce non funziona, è un'emergenza. Non è grave, ma la percepiamo come tale perché odiamo non riuscire a vedere nulla nella cabina di pilotaggio. Ora vi mostrerò cosa faccio normalmente. Una volta assicurata che il casco sia in ordine, lo carico nell'abitacolo o lo metto nella sua sacca. Poi prendo la mia bottiglia d'acqua e metto anch'essa lì dentro. La prossima cosa di cui vi parlerò è l'imbracatura. Ognuno di noi vola con un'imbracatura, siccome siamo in un aereo con sedile iettabile, che ha il nome di ACES-2. È un sedile omologato per lo 00. Quando ci troviamo a zero piedi e zero nodi. Quindi, se ho il tetto chiuso, sono seduta nel velivolo, ho un problema e devo espellermi, il tetto dovrebbe aprirsi senza problemi. Ecco alcuni elementi standard dell'imbracatura. Abbiamo una fascia pettorale qui di fronte e due fasce per le gambe, quindi in totale sono presenti tre punti di contatto, sia con le gambe, che con l'imbracatura. Non ne ho ancora parlato a proposito, ma abbiamo anche come opzione un casco con un sistema di visualizzazione montato su di esso. Forse l'avete visto nelle foto, vediamo se ci sono dei caschi qui. Prendo in prestito il suo casco. Possiamo parlarne. Si tratta essenzialmente di un monocolo. Certo sono piuttosto costosi, ma hanno un cavo elettrico che passa attraverso la cabina di pilotaggio, e che si può collegare fino qui sotto. Prima di tutto si inserisce qui, nell'imbracatura stessa, dopodiché lo si fa passare anche da qui. Se per qualsiasi motivo dovessimo lanciarci, questo rimane lì, collegato saldamente. A cosa serve il monocolo? Il nostro monocolo è collegato al nostro aereo. Abbiamo mappe in movimento, abbiamo diverse modalità per designare i bersagli. Possiamo vedere altri aeromobili in volo. All'interno di questo monocolo sono in pratica racchiuse moltissime funzioni e tecnologie diverse. Quindi, se abbiamo un obiettivo designato a terra, possiamo guardarlo proprio attraverso questo monocolo. E possiamo vederlo attraverso il triangolo rosso, purché sia puntato correttamente. Indubbiamente, è nella maggioranza dei casi decisamente affidabile. Ci permette di avere più informazioni su ciò che vediamo in uno spazio di combattimento, il che ci aiuta molto. Ora, la visiera un po' più grande che abbiamo qui, andrà a posizionarsi al di sopra. Si può attivare e disattivare con un pulsante che abbiamo sui nostri strumenti, usando quello che si chiama OTAS, ovvero, mani sulla manetta del gas e sulla cloche. Perciò, è quindi con l'occhio destro che noi guardiamo, o meglio, è dal lato destro del nostro tetto che siamo in grado di riuscire a vedere altri aerei in volo. Per fare degli esempi concreti, si possono vedere i diversi obiettivi, i compagni, e tutto ciò che si trova a terra. Quando partiamo per andare in volo, in genere noi piloti di A10 voliamo con due cosciali da volo. Questi cosciali vengono utilizzati per inserire le nostre schede dati, o eventuali documenti cartacei relativi ai dispositivi in volo. Li posizioniamo sulle ginocchia, in modo da avere un accesso rapido durante il volo. Inoltre di solito, i piloti volano con quello che chiamiamo portapenna. Potranno mettere la loro matita qui, mentre continuano a pilotare il velivolo. E quindi scrivono sul cosciale in questo modo. Quando facciamo il briefing con gli studenti, abbiamo delle schede tecniche da consultare anzitutto, che riportano l'orario di decollo. Ma anche l'orario di atterraggio, lo spazio aereo in cui andiamo, con chi dobbiamo parlare, e qualsiasi altra informazione. Terminato il briefing, mettiamo il nostro documento nella nostra scheda dati. Andiamo alla nostra postazione dove abbiamo tutte le informazioni utili per il volo di quel giorno, e vediamo in quale coda e in quale punto si trova il nostro aereo. Una volta scoperto il numero di coda dell'aeromobile, assieme al luogo in cui ci dirigeremo, inseriamo tutto nella nostra borsa per il volo. Quella borsa che tutti quanti noi ci portiamo sul velivolo. Sulla 10 di fronte al nostro Head-Up Display, abbiamo un punto sul nostro scudo antiriflesso in cui possiamo collocare questa borsa con le pubblicazioni. È piuttosto grande e vi si possono inserire molti oggetti. Ma lo posizioniamo proprio di fronte all'Head-Up Display in questo modo, e all'aereo stesso. È una borsa comune? È una borsa speciale. Un tempo serviva per conservare documenti e pubblicazioni importanti, prima di avere dispositivi elettronici o iPad. Un tempo si doveva mettere tutto in queste tasche. Che pubblicazioni porta con sé in volo? Portiamo con noi quelli che consideriamo dati tecnici. Come alcune procedure di emergenza, per esempio nel caso in cui si verifichi un problema idraulico. Mi basta toccare rapidamente qui e andare alle pagine relative ai problemi idraulici, in modo da poter risolvere. Volare a livello locale è una sorta di guida rapida per noi, per le persone con cui parliamo, gli spazi aerei. Ci colleghiamo alle frequenze che utilizziamo. Nell'eventualità che ci trovassimo in un momento d'emergenza. Qui ci sono indicazioni su quanto carburante sia necessario per poter andare in un altro campo di volo in caso di maltempo o situazioni particolari. Quindi possiamo dire che abbiamo tutto ciò che ci serve, e a portata di mano, quando vogliamo. Così ora, invece di avere un mucchio di pubblicazioni cartacee, abbiamo due di questi, che metteremo qui insieme ai nostri abituali cosciali con cui vogliamo. Mettiamo tutto lì dentro. Sempre per noi, quasi dimenticavo, esiste anche un cosciale che può essere utilizzato per gli elementi elettronici, che vengono inseriti qui. Ora, vi mostrerò una delle semplici soluzioni di questo oggetto. Posso metterlo qui sul mio ginocchio, e ho direttamente il mio pezzo di carta su cui posso scrivere. In genere, questo qui è quello che uso per i voli interni. Lo metto lì dentro e mi assicuro che ci siano tutte le pubblicazioni e i pezzi di carta che mi servono lassù. Ora che non abbiamo più il cartaceo, noi piloti riempiamo gli spazi vuoti con spuntini, acqua e tutto il resto. Questo, per i nostri voli interni più lunghi. La prossima cosa che vi mostrerò è la tuta anti-G. Questa specifica tuta, la usiamo noi piloti per essere in tal modo in grado di contrastare i G che subiamo, in qualsiasi volo che effettuiamo. Quindi per noi è fondamentale. Se si pensa di raggiungere più di 4 G, è necessario indossarla. Ma di solito indossiamo la tuta anti-G in ogni volo. Ci sono delle sacche. Sono presenti delle camere d'aria, che si trovano all'interno della tuta anti-G. Le possiamo trovare, per esempio, proprio davanti all'addome, per aiutare i muscoli dello stomaco, quindi gli addominali, a fare resistenza durante le spinte dei G. E poi, ce ne sono delle altre lungo tutte le gambe. Attraverso il tubo che vediamo proprio qui, e che ricordo essere collegato all'aeromobile stesso. Ovvero per mezzo di questo sistema di ventilazione in dotazione, l'aria viene spinta all'interno quando il velivolo inizia a sentire i G. Se devo venire sottoposta a circa 4 G, mi sentirò come se stessi sopportando solo 3 G, il tutto grazie alla tuta. Cosa si prova quando queste sacche si gonfiano? Lo paragonerei al misuratore di pressione, solo posizionato intorno alla vita e alle gambe. Ecco cosa si prova quando si gonfiano. Perché è importante si gonfino quando si è in presenza di G? Sono questi cuscinetti d'aria, che impediscono al sangue di raggiungere più velocemente le estremità, quando ci troviamo sottoposti alla forza dei G. Per meglio dire, quando noi piloti siamo soggetti alla forza G, queste tute anti-G ci aiutano a spingere il sangue verso il cuore, prevenendo piccole perdite o simili problemi. In breve, ci permettono di continuare a volare nonostante la forza G. Negli aerei A-10, in genere non riusciamo a sopportare più di 5 G per un tempo prolungato. Non possiamo sostenerli come avviene per l'F-16 ad esempio. Ma almeno possiamo resistere per un po', grazie a queste tute che ci aiutano a non perdere forza. Vi mostro come è fatta una tuta. Ogni tuta anti-G è dotata di una tasca per un coltello a uncino. Questo coltello in dotazione si rende necessario quando abbiamo bisogno di tagliare i cavi che rendono difficile l'espulsione dal velivolo se ci troviamo nella cabina di pilotaggio. Possiamo in generale tagliarne fino a 4, in caso di problemi. Solitamente ogni pilota vola con il proprio coltello personale, ma noi abbiamo anche questo sulla gamba per essere in grado di impugnarlo da sotto la copertura. E se per qualsiasi motivo ci ritrovassimo in un'area in cui diviene necessario utilizzare un coltello, beh, abbiamo anche quello. La tuta anti-G si chiude attorno alla vita. Ha due bottoni per poter essere chiusa, e una cerniera che la risale. Inoltre da qui, è possibile allentare un po' la tuta mentre la si indossa partendo dalle gambe, e una volta indossati i pantaloni, andremo poi a stringerli, in modo che siano più stretti intorno alle gambe. Abbiamo anche delle cinghie sulla tuta. Prima ancora che venissero inventati i cosciali da volo che vi ho mostrato prima, i piloti erano soliti mettere le loro schede dati, o qualsiasi altro documento di cui avessero bisogno per consultare i dispositivi qui, sulle gambe della tuta anti-G. Per quanto mi riguarda, tengo qui i guanti da volo. Così, quando indosso la tuta G, posso toglierli prima di fare il mio giro dell'aereo. Recentemente, solo negli ultimi anni, abbiamo ottenuto l'approvazione per poter avere guanti da volo con fino a tre fori sulle dita. Perché si dovrebbe, di solito, avere persino tutte quante le dita coperte. Molte delle ragioni per cui questo dettaglio è di fondamentale importanza per noi, sono legate al fatto che quando uso l'iPad posso premere i suoi pulsanti direttamente e con facilità. Senza dover togliere e rimettere l'intero guanto. Sono certa che in inverno avrete visto anche quei guanti che permettono di usare il cellulare e di mandare messaggi pur avendo tutte le dita coperte, anche se non è sempre un sistema preciso al 100%. Abbiamo quindi ottenuto l'approvazione, accettando però al contempo il rischio che, in caso di incendio nella cabina di pilotaggio, ci siano tre dita esposte. Comunque abbiamo in dotazione questi guanti da volo. Di solito, io li indosso prima di fare il giro di ispezione dell'aeromobile e li tengo fino a quando non sono poi fuori dallo stesso. Cambiando soggetto, per quanto riguarda la percentuale di piloti che volano con gli occhiali o con le lenti a contatto, non saprei davvero rispondere. Non conosco la percentuale esatta, ma ora è consentito volare con le lenti a contatto. Io infatti volo sempre con le lenti a contatto. Le porto da quando frequentavo la seconda media. Ma se volete volare con le lenti a contatto, dovete prima superare un programma specifico. Ad ogni modo, io porto sempre con me gli occhiali, anche se ho le lenti a contatto. Questo perché, se in volo dovessi avere un problema con le lenti a contatto e fossi costretta a toglierle, potrei indossare rapidamente gli occhiali. Anche se, se devo proprio essere sincera, non sono occhiali molto belli, non li troveremmo su Vogue. Sono occhiali standard, con montatura classica. Ce li mostra? Bene, ora non riesco proprio a vedere quasi nulla perché sto già indossando le lenti a contatto. E probabilmente nessuno mi chiederebbe il numero di telefono mentre porto questi occhiali. Ma non ha importanza, perché io so pilotare un aereo. Perciò, metto gli occhiali in questa tasca. Di solito porto con me anche dei fazzoletti, perché non importa come ragione, ma il mio naso tende sempre a colare. E infine, beh, solitamente lascio sempre una tasca libera, nel caso in cui abbia bisogno di metterci altro. Per esempio, a volte ci infilo uno snack o qualcosa di simile. Concludiamo quindi il nostro video mostrandovi queste due tasche dove conserviamo abitualmente gli occhiali, oppure, soprattutto per chi vola di notte, una torcia o altri oggetti di questo tipo. Non esistono regole da seguire per quanto riguarda il contenuto di queste tasche, tranne che per gli occhiali. Questo è tutto ciò che porto con me sul mio aereo come pilota di caccia.